Ciao, vediamo un altro modifier che è un po' strano, è il modifier Shrink Wrap, esiste anche per le mesh. Negli oggetti Grease Pencil non è che l'ho usato molte volte, però in pratica permette di far aderire il mio disegno a qualcos'altro, quindi devo avere qualcos'altro, per esempio posso creare una sfera e magari la metto dietro il gatto e la faccio un po' più grande. Con il modifier Shrink Wrap, che è in rosso perché appunto non ha la superficie alla quale applicarsi, se scelgo il target questo, vedete il disegno si è perfettamente appoggiato alla superficie e in questo momento c'è la possibilità di scegliere con l'offset quanto deve essere distante eventualmente dalla superficie in questione. Notate tra l'altro che se lo tengo molto vicino, i segni siccome sono piatti nel momento in cui vengono uniti da qui a là, potrebbero appunto essere diciamo nascosti dalla presenza del cerchio, quindi l'offset serve anche a quello, a portarlo abbastanza lontano da poter avere i segni che non vengono penetrati dall'oggetto dietro. È possibile anche aggiungere un fattore di smooth che ammorbidisce il segno, è possibile scegliere le altre modalità sulla superficie oppure appunto per esempio al di sopra della superficie, ci sono queste altre modalità. La cosa interessante è che è dinamico per cui se la mia sfera si sposta, come vedete il modo in cui il disegno si appiccica varia e quindi viene sempre proiettato diciamo a seconda della posizione, quindi immaginate eventualmente di animare l'oggetto dietro, poi potete renderlo come un materiale che non si veda o appunto lo nascondete dal render e nascondendolo dal render non lo si vedrà però continuerà a funzionare lo shrink wrap e questo è un modo con il quale deformare il disegno anche in maniera appunto dinamica oppure deformarlo anche una volta per tutte perché una volta che avete ottenuto questo ricordatevi che tutti i modifier possono essere applicati quindi se faccio apply adesso il modifier non c'è più e il gatto è effettivamente curvo quindi se torniamo per esempio agli esempi che avevamo fatto con le foglie potrebbe essere un modo per curvare una foglia e poi applicare il modifier in modo tale che rimanga per sempre diciamo curva. Vediamo anche altri due modifier che sono abbastanza facili da capire che sono gli ultimi due qua sotto smooth e thickness. Smooth con questo gatto si nota decisamente poco però vedete c'è un fattore e c'è una quantità di ripetizioni adesso la alzo metto magari 30 e anzi con 300 vedete è diventato super semplice. Con 30 è diventato comunque un po' strano però diciamo che se avete un segno molto frastagliato smooth è quello che avrei fatto in sculpt mode con il pennello smooth solo che come al solito farlo in modo procedurale dopo potrebbe essere meglio magari sempre pensando all'ipotesi di usarlo sotto forma di animazione oppure di farlo funzionare solo su alcuni layer e non su altri. Quindi con questo repeat determino la quantità di volte in cui viene ripetuto lo smooth e quindi quanto il disegno si diciamo si rovina. Posso lavorare sulla posizione dei segni appunto oppure anche sulla strength e in questo caso ovviamente non si nota perché non c'è opacità sulla thickness che quindi le rende tutte le ammorbidisce quindi le rende diciamo tutte uguali come vedete posso anche lavorare su più di uno alla volta cliccando su ognuna e attivando o disattivando qualcuna di queste voci. Quindi smooth fa dopo quello che abbiamo imparato a fare o con smooth in sculpt mode oppure quando disegniamo con le opzioni del pennello che servono ad ammorbidire il segno quindi rimuove le asperità nel disegno. Il modifier thickness è molto facile da capire nel senso che moltiplica lo spessore del segno. Se avete disegnato troppo sottile come vedete con thickness posso aumentare. Alla fin fine è simile a quelli che avevamo visto all'inizio di questi che cambiano il disegno dopo averlo già fatto solo che siccome il disegno viene effettivamente deformato l'hanno messo in questa categoria. Quindi mettendo 2 il segno è il doppio più grosso mettendo 0,5 il segno è la metà più sottile. È interessante che si possa premere uniform thickness e in questo modo vedete un disegno che prima aveva uno spessore variabile adesso ha uno spessore uniforme e posso decidere qui lo spessore in questione. Quindi in questo modo mi libero completamente dell'informazione di pressione che potevo aver dato con la penna scegliendo uniform thickness cambia molto lo stile del disegno. Quindi ricordatevi che anche se avete disegnato a uno certo spessore magari avete il personaggio più piccolo o più grande e quindi potete regolarlo. Questo gatto magari è appunto a questa distanza ne crea un duplicato e lo porto molto più indietro e quindi quando lo riguardo dalla telecamera è diventato, lo porto ancora più indietro, vedete è un po' troppo sottile, posso andare a cambiare non a questo ma a quest'altro lo spessore del segno e renderlo più adeguato e quindi magari ecco adesso questo e questo hanno uno spessore diverso in modo tale che vada d'accordo con il fatto che sono su piani diversi quindi sembra che abbia usato la stessa penna per disegnare quello dietro oppure posso appunto come sempre animare anche questo valore e decidere di creare un effetto aumentando e diminuendo lo spessore. Grazie e alla prossima!